Marx è un classico, il classico come tale non può essere oggetto di venerazione né di celebrazione o tanto meno di adorazione. Il classico per ricordare Calvino è colui che vive continuamente, permia continuamente con la sua influenza, con il suo spessore intellettuale e concettuale gli eventi dei tempi che seguono la sua esistenza terrena. Abbiamo convenuto di intitolare questo convegno 10-100.000 Marx, per una ragione molto semplice ma anche essenziale. Non esiste un'ortodossia marxista, nel senso che nonostante ci siano state organizzazioni politiche importanti come la seconda internazionale, come la terza internazionale, che hanno in qualche maniera voluto creare, tracciare un profilo definitivo di accertamento delle caratteristiche essenziali del marxismo. Nonostante questo, la storia inevitabilmente si è premurata di togliere a questi tentativi credibilità e comunque legittimità storica. Marx è tuttora un cantiere aperto per coloro che lo studiano e per coloro che operano in suo nome. Però è anche vero, questa è una delle mille interpretazioni di Marx e della mia, è anche vero che nonostante non si possa ragionevolmente più parlare di ortodossia marxista, però Marx sicuramente aveva un suo sistema, cioè c'è una contraddizione tra l'inesistenza di un'ortodossia marxista e la consapevolezza marxiana di un sistema marxiano che si articola fin dall'inizio della sua vicenda speculativa in critica della religione, in critica della politica, in critica dell'economia politica per livelli successivi di accumulazione. Questa libertà, questa creatività del marxismo poi troverà riflesso anche nelle relazioni di oggi pomeriggio, della giornata di domani, vedremo interagire tra loro Marx e Löwitt, Marx e Gramsci, adesso mi sfugio scusate, vedremo che Marx riesce a vivificare anche a distanza di decenni e ormai di secoli ricerche che tentano sempre più di portare le sue griglie metodologiche all'altezza delle contraddizioni attuali di questa società che, volenti o nolenti, sia che si militi da una parte o dall'altra, destra, sinistra, al centro, rimane comunque una società fondamentalmente caratterizzata da un modo di produzione capitalistico. Un'ultima cosa, Marx è anche vitale, soprattutto per le giovani generazioni, perché è insieme a Nietzsche e a Weber, uno dei grandi insostituibili analisti e anche interpreti della crisi della modernità. La modernità che raggiunge il suo apogeo con Hegel e poi progressivamente presenta e tende ad enfatizzare delle inclinature di cui oggi noi siamo testimoni a diversi livelli di attività o di passività. Quindi il campo Marx è vivo perché opera a distanza di due secoli ancora in un campo largo di provocazione teorica, metodologica e poi ovviamente anche sul piano della ricaduta politica.